ciao ragazzi sono un pochino in crisi perché ho pochi megabyte da poter consumare e questa è l'home page del canale del cappellaio matto e veramente non so dove cliccare praticamente posso vedere soltanto un video devo scegliere tra Nova Alexio un canale molto molto interessante come ripristinare il gigante refrattario di una stufa gas poi qua si parla di inverter vedete la pubblicità chi se ne frega tanto la macchina non me la posso permettere poi c'è questo canale bellissimo fantastico di che te lo dico a fare che poi sarei sempre io ovviamente ve lo consiglio senza nessun conflitto di interesse e poi c'è questa qua che è una melonara non lo so vedete voi veramente il dubbio l'incertezza è atroce ma dove diavolo posso cliccare io sono combattuto tra i meloni sinceramente parlando e darmi un like al canale che te lo dico a fare è un mondo difficile vi saluto dai buona giornata ciao rispetti le donne grazie italian spaderman shut your mouth pussy head e farmi un macchiato pronto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti